ciao ben tornati sul mio canale oggi vi parlerò della batteria sonia in para dell'elettronica parlante della clementoni sapientino è nata da tre anni in su a tre modalità di gioco tramite questo selettore abbiamo la prima modalità che è la batteria sorrista dove per il giovane e bambino si può divertire a comporre la sua canzone poi ha la modalità luce ritmo dove deve suonare a tempo più di 10 massimo sitali proposte e poi abbiamo l'ultima modalità di gioco che sente e suona dove bambina deve memorizzare le varie luci che si accendono e ripeterla ha già quattro tamburi e un piatto due panchette già incluse questo gioco va a filuppare quello che è lo filuppo sensoriale lo filuppo fisico motodio lo filuppo cognitivo e lo filuppo emotivo ora vi faccio vedere il gioco più da vicino ecco qua poi la batteria suona in para della clementoni abbiamo due bacchette con l'alloggio l'alloggio apposta per le bacchette abbiamo come abbiamo detto prima tre livelli di difficoltà lo spegnimento la batteria solista dove si può suonare in maniera totalmente libera luce a ritmo dove si ascoltano le basi si osserva la velocità con cui si accendono le luci e si può suonare o quella che dice la batteria accendendo le varie luci quando dare libertà e poi c'è la versione senti e suona dove si accendono le luci e poi si deve riprodurre il ritmo che ha fatto ogni luce che diffonde il colore dei vari tamburi iniziamo a vedere il suono con la versione solista batteria solista suona gli strumenti e divertiti a comporre la tua musica pronti si suona questi sono i vari suoni di suonare come vuole io sono all'età da mio figlio è molto più bravo luci a ritmo segui le luci suonando le percussioni a tempo bacchette in posizione un due tre quattro a un a un Questa qua abbiamo 10 bassi inensite inedite che si suona a lui. Sono 10 le basse di questa qua e poi abbiamo questa livella dove si illuminano le luci. E lui deve ripetere le luci che si vanno ad accendere, man mano aumentano la difficoltà ma naturalmente. Quattro! Cinque! Come vedete è un gioco davvero intuitivo e poi i bambini si sa che si divertono a suonare con la batteria. Spero che il video vi sia piaciuto, al solito lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, così mi sosterrete. Al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!